E' scomparso improvvisamente Paolo Scoppettuolo, 81 anni, lungimirante e imprenditore di Mirabella e Clano, impegnato nel settore dei materiali da costruzione. Tutte le mattine, di buon'ora, andava ancora in azienda alla sua seconda casa. Ha dedicato infatti tutta la sua vita all'attività e alla famiglia. Se ne va dunque un pezzo dell'imprenditoria irpina di spessore. La società, con sede non solo in Irpinia ma anche nel Sagno, si colloca nel panorama delle aziende distributrici di prodotti di rifinitura e servizi per la casa. La Paolo Scoppettuolo SRL, nata nel 1977, è oggi una delle più dinamiche realtà del territorio che offre prodotti dall'elevato contenuto di ricerca e design. Mirabella, Avellino e Ariano, qui i tre innovativi showroom della Paolo Scoppettuolo SRL in Irpinia. Tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore irpino, molto conosciuto e stimato, ricordato da tutti per la sua gentilezza e professionalità. Lo storico imprenditore era conosciuto anche oltre il contesto provinciale. I funerali di Paolo Scoppettuolo si terranno domani alle 16.30 nella sua Mirabella. Lascia la moglie e due figli, anche loro impegnati nell'attività di famiglia.